E' finita adesso la partita contro Bellusco che è finita 3 a 0 per le avversarie, le padrone di casa. Sicuramente c'è stata una mancanza forse a livello di atteggiamento in campo. Dobbiamo renderci conto che siamo arrivate da due partite vittorie molto molto importanti e continuare su quest'onda, continuando a lavorare in palestra. Quindi non c'è molto da dire sotto questo punto di vista. Domani, cioè lunedì, ci ritroviamo in palestra e ricominciamo a lavorare da zero perché è quello che dobbiamo fare.